Mi chiamo Marco, sono un sordo profondo, tramite un processo di logopedia fino dalla nascita sono riuscito a parlare e a integrarmi perfettamente nell'ambiente sociale. Sei riuscito anche a studiare? Sono riuscito a studiare, ho fatto tutto il processo elementare, medie, superiori, sono riuscito a laurearmi in architettura, sono un architetto, libero e professionista. Marco è la dimostrazione che nonostante la sua assurdità si può non solo parlare ma anche studiare e affermarsi nella vita. Stamani in Palazzo Vecchio a Firenze in un incontro promosso dal PD si è parlato della lingua dei segni e della prevenzione dei diritti delle persone con disabilità auditiva. Al momento c'è un disegno di legge, il 1151-2014 per il riconoscimento della lingua dei segni, ma non tutti sono d'accordo. Io sono contraria alla LIS, come lingua di tutti i sordi, sono contraria a questo disegno di legge numero 1151 che è stato presentato in Senato. Sono contraria perché l'obiettivo unico è il riconoscimento della LIS, in quanto tutte le materie che vengono elencate in questo disegno di legge sono previste già dalla legge 104 del 92. E c'è chi invece da tempo lotta per il riconoscimento. Perché anche come dignità, prima di tutto, tra persone che è la libertà di scelta e anche poi questa proposta di disegno di legge 1151 del Senato, è proprio anche include tutti gli aspetti registrativi, tutti gli aspetti anche normativi, nel senso che ogni persona può scegliere il suo percorso.